Federica Pellegrini, 29 anni, vestirà i panni di giudice di Italia's Got Talent L'annuncio arriva proprio dalla pagina ufficiale Instagram della campionessa di nuoto Federica è pronta a debuttare al fianco di Claudio Bisio, Mara Maionchi e Frank Matano La nuova edizione di Italia's Got Talent infatti vede nel cast oltre alla Pellegrini anche l'ex giudice di X Factor I due volti femminili vanno così a S.O.S.T.I.T.U.I.R.E. Luciana Littizzetto e Nina Zingli. Sono emozionata. Sono felice di affrontare questa nuova avventura e onorata di essere stata scelta come giudice di Italia's Got Talent Poi con un gruppo del genere? Mamma mia non vedo l'ora di iniziare, scrive Federica accanto alla foto ufficiale del programma in onda su S.E.1. Nello scatto l'ex fidanzata di I. Filippo Magnini posa accanto agli altri giudici.Federica Pellegrini ha deciso così di lanciarsi nel mondo del talent Per lei si tratta di un'esperienza del tutto nuova. Riuscirà a trovare il tempo per continuare la preparazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020? La nuotatrice, infatti, aveva dichiarato di voler partire per il Giappone Ora, però, sembra preferire il piccolo schermo agli allenamenti in basca Per lei si tratta di un'esperienza del mondo del genere